Un blitz in piena regola, compiuto poco dopo l'alba da un gruppo di arcensi che l'altro giorno ha percorso il centro di Riva ed è giunto fin sotto le finestre del sindaco Mosaner, a due passi dalla torre a Ponale. Il blitz è stato messo in scena dagli organizzatori del Gran Carnevale. Mario Matteotti e i suoi soci hanno voluto testare il terreno in vista della sfilata carnevalesca che è in programma fra due settimane. In questi giorni in molti si sono domandati se quest'anno il Carnevale di Arco, anziché svolgersi ai piedi del castello come avviene sempre, andrà in scena sotto la torre a Ponale. Un vero e proprio affronto che Matteotti, forse l'ultimo fra i goliardici e i provocatori rimasti ancora in attività, ha alimentato facendosi ritrarre, in versione fumetto, sul manifesto che promuove il suo Carnevale mentre staziona proprio sotto la torre tanto cara ai Rivani, annunciando l'ormai imminente appuntamento carnascialesco. E così il patron del Carnevale Arcense ha dato luogo ad una sorta di prova generale, un sopralluogo sul campo per testare la larghezza dei viali, l'altezza dei lampioni, il raggio di curvatura delle strade, in buona sostanza per verificare la possibilità di condurre i carri arcensi lungo il tracciato Rivano. Un blitz concluso con fotoricordo davanti a quella torre che un giorno potrebbe davvero veder transitare ai propri piedi i carri e le maschere di Matteotti, sempre che decidano di farlo. Grazie. Grazie.